Abbiamo avuto occasione di vedere il video che si trova già su alcune piattaforme a noleggio ma immagino che arriverà a faiare sui grandi provider di streaming gratuitamente gratuitamente no, niente è gratuito, però se tu sei abbonato ovviamente poi arriva gratuitamente il titolo specifico Perché se è gratis il prodotto sei tu Stiamo parlando del film The Well di Federico Zampaglione Che non è stato, come è stato trattato male dal sottoscritto, il bene No, The Well vuol dire il pozzo Il pozzo, è un falso amico dell'inglese ma per quanto riguarda il gioco dell'horror È possibile che il bene è quello che stai aspettando e auspichi per tutti i protagonisti del film? A volte anche no, nel senso che uno gli horror a volte li guarda proprio per vederli fare una brutta fine Perché spesso sono dei personaggi talmente cretini che uno gli dice vabbè te la meriti Comunque in questo caso parliamo di un film che segue il filone dell'horror italiano Che anche lo stesso Federico Zampaglione, ovvero il regista, ha sempre detto essere il suo riferimento principale Parliamo di Dario Argento, di Bava, di Deodato Quindi insomma l'horror che è un po' il nostro folk horror, mettiamola così Quello che, non solo, però insomma che attinge a uno scenario e a una tradizione tipicamente italiana Qui siamo in ambito molto gotico da un certo punto di vista La storia è ambientata negli anni 90 La protagonista è un'americana, una restauratrice americana Che si trova a un certo punto in un paesino italiano Che si chiama Sambucci E che esiste veramente Qui vicinissimo, 40 minuti, mezz'ora da esattamente la sedia da cui vi sto parlando E si trova appunto in questo paesino per restaurare un antico dipinto nella villa della Duchessa Emma Fosca Malbisi Quindi lei è stata chiamata da questa Duchessa e si trova a dover fare questo lavoro Quindi diciamo che l'ambientazione è quella di appunto un paesino, un palazzo antico Che ricorda un po' la casa delle finestre che ridono, di pupiavati Chapeau Sì, totalmente chapeau Però insomma Ed è, e c'è anche un po' il concetto della persona che si trova totalmente fuori dal proprio ambiente Un'americana in un paesino italiano Che può sembrare una pubblicità di Dolce Gabbana Però insomma, in questo caso prende dei risvolti non piacevoli In questo caso tra l'altro è assolutamente giustificato perché lei è la figlia di un valentissimo restauratore E lei è figlia di tanto padre ed è chiamata proprio perché c'è un tempo molto stretto Questo restauro deve essere fatto in un tempo molto definito ma in una qualità molto alta Quindi si chiede il massimo dalla migliore Quello che possiamo dirvi su questo horror finisce qua Nel senso che dal punto di vista della trama ovviamente è tutto un divenire E sarebbe un enorme spoiler, qualsiasi cosa vi dicessimo Vi possiamo accennare al fatto che c'è un pozzo che è quello del titolo The Well E anche nel poster Ci sono dei sotterranei, esatto E c'è anche nel poster E c'è un po', come anche ha spiegato Federico Zampaglione durante il Castiglione del Cinema Film Festival Questi due ambiti, questi due spazi del film Una parte appunto più gotica e una parte invece più moderna Di horror più contemporaneo Diciamo, se vogliamo seguire una scia Saw Oppure Hostel Cioè quegli horror molto splatter Che tengono la mano al passato E molto chiusi, molto claustrofobici Cioè di spazi chiusi e di gente imprigionata Questo è un po' il senso E' una storia che di per sé è interessante sicuramente Per quanto, diciamo, posso dire io dal mio giudizio In alcuni punti un po' ingenua nella costruzione Ma nella fattura? La fattura è molto alta Soprattutto negli effetti speciali Che sono veramente di un livello molto molto alto Sono tutti effetti speciali artigiani Com'è che li ha chiamati lui? Fisici Pratici Pratici Cioè sono resi veramente Non sono, diciamo, apposti in un secondo momento Con i CGI o in maniera digitale E questo si vede, si nota Perché danno una grande credibilità a tutto quanto L'atmosfera in alcuni punti si fa più onirica E in altri invece decisamente più violenta e splatter È un film che si fa guardare 91 minuti Sì Veloce, agile Io ho tro... La cosa in assoluto che mi ha convinta di più è Lorenzo Renzi Comalzoni Un attore meraviglioso che io amo E che secondo me è molto bravo e interessante anche in questo film In generale, appunto, lo spunto della storia È uno spunto sicuramente interessante Il mondo dell'arte Dà sempre grande spinta ad un horror Perché appunto ci sono dei quadri Che anche solo guardandoli Senza che abbiano nessun tipo di attinenza Anche con il mondo dell'horror Fanno paura Pensate a tutto il mondo del fiammingo Quindi a tutta quell'arte piena di contorcimenti E di diavoli e di spiriti e di demoni Che si mostrano e che tu veramente non sai dove guardare Per quanto male c'è E l'arte, devo dire, è sempre una grande spinta Pensiamo anche ai ritlatti che invecchiano il posto delle persone C'è una storia anche alle sindrome di Stendhal Quando uno davanti a un quadro perde la coscienza di sé E rimane lì, diciamo, ipnotizzato Quindi da questo punto di vista mi ha convinto Un po' meno su alcune altre cose Però Zampaglione continua questa sua scelta Di sposare l'horror per la sua carriera cinematografica Che insomma non ha messo fine anche a quella musicale Lui continua ad andare sui due fronti Ed è molto felice così E la parte, diciamo, se ho capito bene La sua parte Da una parte più divertente Ma anche quella più impegnativa Lui ha detto Fare un film È ovviamente molto più complesso e faticoso Di fare un disco E fare il regista è molto più difficile Che fare il musicista Lui ha detto Per fare il musicista ti metti un paglio di occhiali E vai in giro a suonare Non so bene Perché c'è tutta una parte prima Che però evidentemente lui lo va più facile E va bene così È un dato Ognuno ha il suo Noi abbiamo avuto la possibilità Di parlare con Federico Zampaglione A Castiglione del Cinema L'abbiamo parlato insieme ad Emanuele Rauco Davanti a una bellissima piazza Anche piuttosto pullulante di persone Persone molto attente Che in parte avevano visto il film In parte stavano per vedere il film Quindi se volete potete recuperare La conversazione integrale Vedo il Facebook di Castiglione del Cinema C'è tutta l'intervista Tutta la diretta dall'intervista Vi facciamo sentire un pezzettino Un pezzettino che ci ha colpito Anche per la facilità di Appunto di trasmissione in radio Dove una persona dal pubblico Chiede a Zampaglione questo Magari se lo metto alla velocità corretta Questo è il problema di ascoltare I podcast sempre veloci Che poi sei settato sul due perle E il rapporto tra la realtà e la paura E il rapporto di Zampaglione Con questo argomento Grazie È stato affrontato il tema del rapporto E della paura con la realtà A me interesserebbe invece sapere Il rapporto e la paura Con la stela del soprannaturale Cioè sempre in tema horror Ma il soprannaturale Io per le esperienze che ho avuto Cioè è una cosa che mi intriga molto Però io per esempio Sono convinto che è un fantasma dentro casa Quindi Cioè Però il mio rapporto è ottimo Cioè Sì Il mio rapporto è ottimo Perché tanti anni fa C'era questo ragazzo Un bravissimo pianista per l'altro Aveva preso in affitto Casa mia Quando io ero insomma Ragazzetto così Mi ricordo che mio padre Una volta uscì di casa Oddio Il successo era da genere Insomma Sto ragazzo Che era un ragazzo gay Aveva chiamato il padre Per fargli auguri di Natale E che era tedesco E il padre gli ha detto Non ti fa più sentire La cosa che tu hai fatto Perché lui viveva dentro casa mia Con il suo compagno Il padre Non mi chiamai mai più Non ti voglio più sentire Non ti devi più far sentire Questo attaccò il telefono Apri la finestra della camera da letto E si è buttata la finestra E morì così E quindi Ci sono ogni tanto Delle cose che accadono dentro casa Che mi fanno pensare Appunto Per esempio Mia moglie Quando è venuta lì a casa Un giorno io l'ho trovata bianca Come un panno lavato E gli ho detto Che è successo Mi si stava a fare la valigia Di spalle al pianoforte E ho sentito una nota Vabbè Poi da lì Ne sono successe tante altre Però infatti Un giorno mi dice Secondo me adesso Bisogna chiamare Non chiamate nessuno Non date pastille al fantasma E ho detto Il fantasma deve stare tranquillo Perché io Dentro Questa casa Sto tanto bene Addirittura Quando partiamo Per periodi Magari un po' più lunghi Io sai che faccio? Vado vicino al pianoforte Alzo E lo lascio alzare Sì Bravissimo 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 La moglie è contenta Ma ormai guarda La fine si è abituata Penso che gli vogliamo bene Una volta ce n'ha fatta una Che ci ha fatto un po' Spaventare Con una porta Che ha chiuso Dall'interno E abbiamo dovuto Chiamare Fabbro Che poi Ha aperto la porta Dice Non è mai successa Nella mia carriera Una cosa così Perché questa porta Ci aveva le mandate La porta del bagno Perché stavamo Un po' litigando Però Erano due o tre giorni Che c'era un'aria Un po' così A un certo punto Misteriosamente Allora io ho anche pensato E dico Ci ha dato Un messaggio Sì Ha detto Oh Datevi una calmata Però mi ha sempre affascinato Tutto quel mondo lì Se avessi pensato Di avere dentro casa Una presenza così In teoria Mi sarei terrorizzato Invece adesso Per me È una cosa Normale Bye